Appena rientrati a casa buia, che buia non è perché, 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 perché c'è un panorama che è un arbero del Natale, eccola la luna, ecco la la la, la zoom, la luna, la zoom, la luna. C'è sei lampi, e guarda la strada, piccole piccole, piccole, piccole. a me vi fa paura che stiamo a quanto è che piano stiamo? 32 è assurdo è un albero di natale ecco questa è la stanza di notte dei mummi io sono nudo ma no non si viene niente hai visto un ombra nero è come ahi sono nudo un bimbo giappone che scappa a me no scusa buonanotte ma non ti vede niente guarda di qualcosa arigatou gozaimasu no vieni qua 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 devi dire qualcosa arigatou gozaimasu oi 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 tu? oi 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 oi